And I still feel all so wasted on myself Se siete quindi in classifica sapete qual è il motivo? Perché sicuramente avrete pagato qualche partita Perché è inammistibile che voi siete quindi in classifica E non sappiate fare un passaggio, un lancio lungo Niente, 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 una beata minchia Davvero siete inguardabili E io le cose non voglio dimostrare con le parole ma con i fatti Ok? Va bene, ci vediamo al campo allenamento Dai, ciao Hai un bel caratterino Kundispa? Adesso mostrami in campo ciò che sai fare Ho un bel caratterino? Grazie Però prima mi attacca, adesso dice con bel caratterino, si decide però Comunque, ci vediamo oggi, va bene E sia tranquillo che, tanto se non faccio qualcosa io non facciamo un cazzo Quindi, a dopo Ciao Kundispa, sono il tuo procuratore Abbiamo avuto un problema, devo parlarti urgentemente Ciao Luca, dimmi tutto, io sono qua e stavo aspettando la tua chiamata, quindi dimmi Per un grave problema, dobbiamo ricominciare tutta la carriera Perché la tua nuova società non riesce a pagarti lo stipendio e ha dichiarato fallimento Ma scusa, come è possibile? Siamo appena arrivati? Non c'è un altro modo da fare? Io faccio quello che mi dici di far tu, però mi sembra strana questa cosa Ti do qualche giorno per decidere cosa fare Il mio consiglio è di ritornare al Palermo E andare in prestito in un'altra società così da poter crescere A me Luca comunque dispiace perché avevamo avuto dei problemi nelle prime partite Però volevo continuarla Io ascolto te, se preferisci che ascolterò anche naturalmente i miei fans Se preferisci che torno al Palermo, ricominciando al Palermo E poi magari torniamo in prestito in un'altra società Per ricominciare, diciamo, com'era la carriera all'inizio Mi dispiace veramente per com'è finita l'avventura con la Juve Stavia Speriamo che la nuova avventura sia più fortunata Eh, te lo ho detto, rispetto tanto anche a me Speriamo davvero che la nuova avventura sia più fortunata di questa Perché comunque ci tenevo e so anche che tutti i miei fan ci tenevano Ci sentiamo nei prossimi giorni Ciao Kundispa e mi raccomando, forza e coraggio È stato solo un incidente di percorso Ciao Luca, dai, ci sentiamo nei prossimi giorni Sei tranquillo? Sto tranquillo anch'io comunque perché Penso che è stato davvero soltanto un incidente di percorso E sono sicuro che andrà meglio nella nuova e prossima carriera Quindi dai, ci sentiamo Decido il da farsi e poi ti faccio sapere Magari ti chiamo io, dai, ci sentiamo Ciao ciao Allora raga, spero che le due brevi intro Le due chiamate Mi siano piaciute Ho provato a spiegarvelo in un modo un po' più simpatico Ciò che era successo Anche se chi era già fan della mia pagina Facebook Che trovate sempre qui sotto in descrizione Sa già cosa è successo stamattina Praticamente mentre stavo per iniziare a registrare Dopo aver fatto l'intro La prima E... Ho avuto questo problema Che state guardando comunque qui sotto Perché Ho avuto un problema nel... Nei salvataggi Cioè secondo me O è stato un mio errore di disattenzione Oppure è stato un bug di FIFA Fatto sta che come state vedendo Comunque continuate a vedere fino alla fine del video E... Tutti i salvataggi che avevo Che erano tutti quelli della... Sia della videocarrera che I salvataggi della carriera giocatore Sono andati a puttane Perché sono rimasti solo quelli della videocarrera E dico Meno male Perché Mi bruciava ancora di più Se era la videocarrera a cancellarsi Perché comunque La videocarrera sono già Vent... Ventunesimo episodio E già Dopo ventuno Ventuno episodi C'era un po' più di lavoro Che solo otto episodi Della carriera giocatore Quindi È andata bene Ma male Avete capito Nel senso che voglio dire Perché comunque a me La carriera giocatore È una serie che a me piace Perché comunque Scusa se continui a dire Comunque 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 È una serie divertente Secondo me È comunque alternativa All'RTG E la videocarrera Quindi è una carriera Che comunque È divertente E mi piace E allora Voglio ricominciarla Perché Se ho avuto questo problema Per causa mia O per causa del gioco Ancora non lo so Probabilmente anche Che sia stato Un mio sbaglio Ma io mi chiedo Se io ho salvato I video Cioè Se io ho salvato La carriera giocatore Su un file Della videocarriera Giusto Non dovrei avere Tutti i carriera giocatore Invece che Tutti i videocarriera È questo che non riesco a capire Probabile anche Che io abbia salvato I file Della carriera giocatore Della videocarriera Sui file Della carriera giocatore Non lo so C'è stato Questo cazzo di problema Spero che non ricapiti più Starò più attento io È la seconda volta Che ci capita Anche se la prima Era stato proprio Mi spuntava A file danneggiati In quella del Wolverine Dell'anno scorso Però è la prima volta Che succede con FIFA 14 Mi dispiace Perché inizierà a pensare Eh Kun Mi hai fatto apposta Perché non vuoi giocarci Non è vero Perché mi piace Secondo voi Sputtano un lavoro Perché comunque C'è un lavoro Dietro ogni video Sputtano ore e ore Poi ci sono 8 episodi Dietro questa serie Sputtano ore di lavoro Per far cose Per ricominciarla C'è stato un cazzo di problema Avete capito Voi lo avete visto Penso che adesso Dovrebbe essere finito Perché comunque Ho velocizzato tutto Altrimenti ci stavano 20 minuti La mia play A fare queste 4 cose Ehm Comunque adesso è tutto Io spero che Per voi Ricominciare col Palermo Sia un'ottima idea Perché comunque ho detto È un progetto L'abbiamo iniziato Finiamolo Perché comunque È una serie alternativa L'oggetto è una serie Che a me piace molto 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 Spero che le intro Vi siano piaciute E prima di che finisca il video Voglio ringraziare I miei fans Che stamattina mi hanno aiutato Oppure hanno cercato di aiutarmi Un secondo che vi dico i nomi Allora Ringrazio Leonardo E ringrazio Vabbè i soliti Ricky Marco Andrea E ringrazio soprattutto Ivan Che ha dato Il 100% Per provare a Darmi una mano Comunque Farò stesso Adesso Riprendiamoci subito Magari Farò Il Non so chi si chiamarlo Decimo O primo video Comunque Ricominciaremo di nuovo col Palermo Spero che l'idea vi piazza Io Per me adesso è tutto Spero di lasciare Vi prego Lasciare un Non è che vi prego Che uno mi fa Perché preghi la gente Non prego la gente Vi chiedo Se volete Gentilmente Di lasciare un mi piace Di commentare Iscrivetevi al canale Condividete il video Mandatevi un messaggio Sulla mia pagina facebook Se avete delle idee Per Per coinvolgervi meglio Nella carriera giocatore Spero soprattutto Che intro Vi siano piaciute Quindi lasciate un mi piace Anche per quelle Adesso è tutto E ci vediamo al prossimo video Bella E ci vediamo al prossimo video